La tua specializzazione? Wow! Non ti gioca al diverso! Non ti gioca al diverso! Robo! Ah si! Ma io però rollo! No! No! E' perfetto, la ripresa! Va la peglia a tusso! Adieu, hai falato da dove ho deciso! Ma... è troppo veloce bello guarda mi prendi l'acqua di quella lì ho un po' di succo, dammi un po' di succo è il mio allora ci ha mai trovato la tanziazima volta 18 lo puoi salvare te a buaro per favore mi mangio qualche biscotto vabbè mi metto con un buon buono buono ok guarda 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 E sta lontano dall'ombre, perché appena lo rianima sta vicino a te. Un po' si perché corre così, guarda, 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 un chilometro, un passo già sta da te, guarda, è già arrivato, è già arrivato da te, stava a metà mappa, bravo, prendi più spazio, è già sta qua, guarda, mamma mia, quanto è veloce. Prendi spazio, prendi spazio, guarda, è troppo vicino, l'ha preso, è troppo vicino, gli sta un chilometro, un chilometro, bravo, un chilometro, bravo, così, eccolo, è già arrivato. Bravo, chilometro, un chilometro, mettiti un chilometro, troppo vicino, sei vicino, sei vicino, si prende, ok, ok, un chilometro. Ti ha preso, ti ha fatto un chilometro, ti ha preso. la cosa è che mi ha fatto la cosa è che mi è stato mi metta a me sul bar dai dai che c'è la tecnicina dai bene la voglio dire la voglio dire metta quello che dovevo fare non è casa mia non è casa mia non è casa mia dai vieni qua hai scattato delle cose per decorare basta guarda che mi ha dato io le mette un'altra che per decorare le altre sono qui no ero schicco guarda che mi ha dato lei doveva essere gli spiego così le pensi qua a decorare nei lati io ho capito ho capito ma io ho già fatto un pavimento ho fatto un altro spazio di merda ho fatto un altro spazio di merda ho fatto un altro spazio di merda si faceva la casa comunque pochino muoce lascia di il fatto Mi chiedo fuori! Ragazzi stai giustando lo spessi tutto e fai fuori cittura! Per retto vedo una cosa quando lo rianima... Che? Appena lo rianima fa un zoppo di un chilometro! Lo fa diretto sul paro eh? Si si ma in chilometro! Quello non è possibile! Guarda! Guarda! E lui? Non so come dirtelo! E come si si aggiano lì capito? Lo vedi lontano ma già sta lì! Guarda guarda! E' veloce! Guarda guarda guarda! Guardalo! No è possibile! Guarda guarda con dolore animale! Si si lo so! Lo so il video dopo! Te lo mando qua! Almeno se lo studio! Guardalo guardalo! Guardalo! Guarda 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 guarda! No, che fa qui sta far去了?! Prendiammi cosa si me riguarda! A me c'è ne ha metta che abbiamo fatto una persona, e ho chiesto qui heaviesto che abbiamo fatto un mare di eye ! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. arrivo eh allora vediamo ah ok non ti ho visto che stavi a dormire ah 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 Vai, dai corti lì a caso e ti prende No, no, la va a preso jugar un guapo, strano È impossibile, è impossibile Penso che questa c'è un amico di... è un amico di... No, sei fatto amico ora, adesso se l'ha fatto amico Io l'ho cancellato Questo qua l'ho visto in un gioco, nonché... chissà cosa, eh? Io adesso l'ho visto Ho giocato qualche volta Io mai Sì, però non so Guarda, 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 è già arrivato Guardalo Impossibile Io non ne voglio da su come quella luce No, lui arriva subito Di santo chilometro Llevati Sì, vuole, sì Guarda tu l'altro Guarda tu l'altro Guarda tu l'altro Guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Non è dove lo vedo io, dove lo vediamo noi Bravissimo, quello che dicevo io prima Non è lì Aspetta, non ria mai così veloce Aspetta un secondo Tanto sta vicino in te E... in mezzo di un secondo sta vicino Ecco, sei preso Fateli fuori tutti Llevati Ah, presi Sei pronto? Sì Ok No, non è così per uno che corre così No, no No, non può correre così Ok, neanche il Mamato lo fa così No, no Il Mamato ha il salto di 10 metri Qui c'è la corsa di 10 metri Sì 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 No, non è così No, non è così Lui ti fa il cortello da 10 metri e ti pia Non hai capito ancora T'ha preso adesso T'ha dato il cortello o ti prende? E' inutile T'ho dato 5 metri prima il cortello Capito? Guarda adesso dove era? Gli ho dato il cortello Sì Sempre lì Io me l'ha dato dopo che l'ho dato io Non è me Guarda questo cacare si è già manca Che pezzo di merda che è Sì, non è vero, non è vero. Sì, sì, sì. 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 No, no. No, no. Guaro, sono velocissimo. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Tu hai provato a correre. No, no, no. guarda, 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 guarda. guarda, 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 guarda. non è forte è questo che velocità mamma mia mamma mia si si guarda ecco perché for guarda guarda ha sparito ha sparito da altra volta guardalo non lo ho preso guarda 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 non so che è questa cosa che corre così veloce guarda 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 è tutto automatico non ha capito ancora guarda guarda aspetta eh, non andare via vado a sfottare ah già ma, ma chi è più 35? ma chi è più 35? ma qua la mappa... è flash qua la mappa ma chi è? ma di qua va bene, di là da noi non va bene eh, qua è flash la mappa qua arriva un chilometro guarda, guarda, guarda mi ha mandato un messaggio più 35, ma te credo ma che è sta schifezza ma come fai a giocare così? guarda, guarda guarda, guarda ma che schifezza perché hai fatto una partita a giocare perché non... ma cos'è, guarda flash proprio, eh? come nudo e guarda che stasi che fai sii che schifo ecco perché non moriva già ho scoperto per quello più 35 ma sa giocare anche uno scarso che usa sta merda ma che è sta schifezza ma che è sta schifezza che usi guarda, guarda 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 passatella guarda guarda non riesco a tenere la locale sui passatella si, si io corro tu cerca di prenderli che schifo che schifo ma che è questa schifezza no 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 guardalo quando me prendi ah ma che schifo che schifo che schifo che schifo che schifo che schifo uaah non mi hai salvato? che schifo è come dicevo oddio che vergogno che vergogno che vergogno che schifo va a cagare è still free provo con c3 vai c3 let's go buono sempre buono l'ha rimesso cazzo l'ha rimesso due obiettivi raggiungiamo la prossima base chiudo da rimesso cazzo 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 frecchio cazzo come ... Ommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm non voglio no godo Non so, la terra! Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Ah! Sì. 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 C'è l'hova a terra! Mamma mia Uccisione confermata Disparano! Nuova terra! Nooo! Che scherzo! no cazzo ero un mino con la mina io no e io e i i i Ah! 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 Wumbam! Yah! Ah! 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 Non sono niente E' un scherzo Non lo so Non sappiamo niente E' un uomo Stai libero Stai libero Che citte? Come si chiama sono citte? Tchamu 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Diggielo che è un perdente con questa merda che usa Allusero Guarda Sei un fulmine qua Guarda come corro Porca puttana Cento metri e un secondo Puttana Eva Guarda Ti venga a salvare L'ha tolto Adesso l'ha tolto Capito? Stiamo giocando al male Quando lui muore Tante volte lo togli Capito? E guarda la cortella Poi quando non vuole lo rimette Sì, sì Guarda Vedi Vedi che ti ha ammazzato Adesso già Non corro come prima Sto a correre normale adesso Ce l'abbiamo la corsa normale Infatti lui sta morendo Vedi che è fuori la cortella Vedi? Vedi che l'ha tolto Hai visto? Guardalo Quando lo togli muore Vedi? Che scarso No, ora si corre normale Non corro più come prima Tanto adesso lo vedi Guarda eh Come la cortella guarda Vedi? Come muore Sto a tolto La torta ha tolto Guarda eh Tu corri sempre Tanto lo vedi Quando lo metti Eri morto Vedi? Vedi Non corriamo normale adesso Guarda 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 Ma che forte Forte il cazzo Adesso l'ha rimesso L'ha rimesso Adesso Vedi che l'ha rimesso Guarda Corri 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 Che sei veloce adesso Si fa cortella due tre volte E poi lo rimetti Come l'ha preso Si Quando lo ha cortelli E lo fa solo due volte Si fa cortellare Capito? Dicevo ma perché Giamma mi ha cortella? Adesso ho capito Guarda come muore Quando non lo usa Libera 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 FRримена mi fanno recuperare tutto sta attento che quando lui muore vuol dire che non ce l'ha più mamma mia come in poche parole noi siamo velocissimi e dell'assolente quanto corro vai vai fanno 100 metri vieni qua vieni qua nudo vediamo che vieni qua che arriva prima di là che muore guarda lui arrivo dopo nudo da qua che arriva prima di là vai 1 2 3 via da dove? di là alla fine aspetta ricominciamo allora 3 mi metto la pistola la pistola pure te 1 2 3 scappa ora vai corri 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 che arriva dai corri corri scappa scappa tanto non ti prende sei troppo veloce ti salvo ti salvo si si vai 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 tanto siamo velocissimi che ci frega pronto che ti salvo ti salvo ti salvo tanto buono senza quello lo massacra senza questa velocità viene massacrato ma come fai a giocare così? non è divertente non like game nulla si perché a cortelli facilmente hai capito? non c'è divertimento non c'è divertimento ma 5 ma stS mi sono comunque muonasera stS Mettete i bastardi! Libera! Sono stato a terra! Un uomo a terra! Un uomo a terra! Libera! Ricarico, copritemi! Ho visto come si scoprono le cose! Un uomo a terra! Spostiamoci! Un uomo a terra! Oh! Un uomo a terra! Un asafi- dove sei? Lufo 2, quel pugnale! E che merda! No, 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 no! Poi lo vede ancora! Che merda, merda! Che merda è questa cosa! Eh? No? E' schifo! Come si dice che è schifo in inglese? Dimmelo! Shit! No, quella è merda! E' il buaro il più forte ancora! Ah, non so qua! E' ancora buono! Guarda, guarda! No, è difficile di far comprimere! No, siamo... Ultra veloci! E' inubile! Che non c'è, non c'è, niente! No, è veloce! Zui! C'è sa... non sa cosa merda che gioca qua! No! No, dopo ti mando... ti mando il video! E vedi come corro! Faccio 100 metri e un secondo! Ma ti ho visto anche dopo che venivi arrivato? E' sparito! E' già lontanissimo eri! Si! Ma vedi come corro! Dopo ti mando il video! Questo è il bello dei video! Bellissimo! E' proprio... Adesso non lo usa! Lo vedi te? No corri qua! Guaro! Guaro! Aspetta! Guaro! Guaro! Aspetta! No, no, non ce l'ha adesso! Non è inutile che corri! E' normale il gioco! Lo vedi che siamo normali! Non corri come prima! Dopo! Ecco! Adesso il gioco è normale! Il gioco è normale adesso! Si corre... In velocità normale! Adesso si! Si! Perché non fanno i 100 metri a un secondo! I 100 metri! Vi è qua! Vi è qua! Vi è qua! Guarda! Vi è qua! Mettiti insieme a me! Corri! Ah! Adesso è normale! Vai! Uno! Due! Tre! Vai! E' normale! Guarda! Vedi! Quando io corro con lui! Già sono arrivato là! Qua arrivo! In tre secondi! Capito? Si! Se mi avessi arrivato lui qua! Eh! E' già sparito! Si! Già ero sparito! Si! Si! Poi un'altra cosa è che lui sa sempre dove sei! Eh! Non è che... No! Che talmente... Il coltello li va in automatico! No! Sei talmente veloce! Che lo prendi dove sei! Tu sei fermo! Un po' guarda! Io ti vedo fermo! Io corro! Ti avvicino! Mi levo! Mi avvicino! Mi levo! Faccio come mi pare! Perché tanto non mi vedi te! Sono troppo veloce! Capito? Io gli ho chiesto se a morte! Lui mi ha detto di sì! Lui? Adesso quando lo ammazzavi! Lo levava il coso! Perché fate capire che ogni tanto muore! E' una cazzata! Capito? Ti faceva morire due o tre volte! E poi lo rimetteva! Capito? Io gli ho scritto adesso se a morte! Lui mi ha detto di sì! Ma non so se sia vero! Però mi ha detto di sì! Ma sì! Ma c'è il video! Ma c'è il video! E' andato via! Mi ha detto? E' andato via! E' un commento che ho scritto E' un commento io ci faccio più contestare! Si! Ah, bene dai! Adesso è un giocatore tão normale! ¿Hanno dove l'amco? 4 non puoi giocare a quel modo a me hai detto di schiena è impressionante impressionante buono corri con me è veloce come cazzo mi ha preso e stavo con la schiena allora mi invita a dimmela buaro, vai da là e invidami così continuo a fare il video vai da là e invidami un'altra volta aspetta oh fai te vai a cortelarmi a cortelema a me ok si ma vuole giocare questo qua contro me devo andare da là io allora vai da là e torna qui aspetta aspetta ti ammazzo filmati vai invidami e arrivo ad ora si 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 io non gioco io corro io corro solo 18 vieni con me capito se tu vieni con me ah no non puoi aspetta rimani con me vediamo un po' uomo uomo a terra uomo a terra mamma mia si ce l'ha ce l'ha inserita adesso uomo a terra ora sei come uomo vai ecco fatto andiamo uuuuuh ah già ma questo amico tuo c'ha il mod non vale un cazzo perdete che schifo devo ricaricare non mi prendete sono troppo veloce sono flash qua che schifo sono i perdenti giocano quei perdenti vai sono il solito perdente perdenti ma come fai a giocare qua e qua si corre tre volte più veloce come fai a giocare qua non ti diverti non c'è divertimento qua come fai come fai non ce l'ha inserita adesso non corro come prima arriva la vendetta che andò da me è still free forte ma vaffanculo non è forte buono forte non usa niente non usiamo niente come l'amici tuo come l'amici tuo i tempi ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo non ha un'amici io non uscire senza un'amici non uscire non uscire non uscire No, mi prendi, sono troppo veloce, sono troppo veloce, non mi prendi, è inutile, qua ma è normale, l'ho capito da te, che prima non ti accortellavo, per quello l'ho capito, subito, ma che cazzo, questo è diventato forte da 5 minuti fa, te credo? Ma Gianno, ma con cazzo giochi, tutti li usano i mod, ma sei scasso, sei, io puro, io puro, ah, non vale in cazzo, salutami il tuo amico spi, ciao buoro, ti mando il video, ciao, Ciao